Il progetto di un nuovo modello di automobile è il risultato di un lavoro complesso che vede coinvolte professionalità diverse frutto del contributo di singoli come gli interi gruppi di designers, tecnici e modellisti e di ricercatori, manager ed ingegneri. Un iter metodologico articolato che inizia sin dalle prime fasi di impostazione e non si esaurisce nemmeno nell'assemblaggio finale sulle linee di produzione. Un percorso nel quale l'integrazione di differenti apporti e competenze, l'applicazione delle tecnologie più avanzate di simulazioni digitali, ma anche il ricorso alle più tradizionali lavorazioni manuali, incentrano ancora nella figura del progettista il progressivo affinamento di ogni elemento e dettaglio. Esiste una propensione all'invenzione, ben radicata nell'identità Fiat, a elaborare progetti che promuovano una reale innovazione. Un modo di pensare e progettare l'automobile è in grado di stabilire una continuità con la storia e la cultura del marchio e nello stesso tempo di spingersi nel futuro. 500L può essere rubricato come un progetto open source, capace di catalizzare esperienze inedite e di sintetizzarle in un insieme più organico, in un'idea di trasporto convincente. Il tema dello space efficient costituisce uno dei cardini fondamentali intorno ai quali hanno lavorato i progettisti di Fiat Group Design. Il principio di base è stato quello di applicare una logica ad ogni elemento, ad ogni singolo aspetto che riguarda gli interni di 500L. Una logica nel senso di facilità di approccio, di interfaccia, di colloquialità, di semplificazione, di congruenza e persino di umanità. Il percorso intrapreso con il progetto 500, che è rappresentato per Fiat un'importante fase di contestualizzazione del proprio brand, trova ora una naturale e coerente estensione in un veicolo multi-purpose come 500L. Fiat 500L racchiude molteplici contenuti tecnologici, dalla struttura della cellula di sicurezza provvista di montanti doppi anteriormente, progettati in accordo con le normative vigenti negli USA, ad un nuovo pianale che sarà condiviso dalle prossime generazioni di modelli. Analogamente i sistemi di connessione in rete, navigazione ed infotainment si alvalgono di interfacce human-friendly e di uno specifico apparato di autodiagnosi. Il Dipartimento Color & Material di Fiat Group Automobiles ha appositamente progettato per 500L una gamma personalizzata di opzioni che contemplano oltre 30 abbinamenti cromatici per la verniciatura della carrozzeria e del tetto. Questa ricerca ha consentito di applicare tecnologie e processi di produzione tali da incrementare ulteriormente il livello qualitativo e la valenza delle proprietà fisiche, tattili e visive di materiali, singoli dettagli e finiture. Se l'automobile continua a rappresentare uno strumento insostituibile di mobilità, la nuova Fiat 500L ci proietta in una dimensione futura, sollecitando la nostra attenzione e il desiderio di riconoscere presto le evoluzioni successive, per renderla ancora una volta un'irrinunciabile di presenza nella nostra quotidiana esperienza di vita.